SILENCE HEAL PT 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 20, 48, 63 Che numero è? Comunque qua non ho capito se ci sta pisciando Addosso o se Ci sta mangiando Comunque penso ripartiremo Sempre da lì, si è così Poraccio Questo penso che alla fine del gioco Se è ancora vivo è per miracolo Vai Mamma mia Riproviamoci Sempre con la nostra amata torce Mi sembra più buio però No, questa volta la porta è aperta Andiamo prima che si chiuda Ok 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 20, 59 È chiusa Regano perché dobbiamo prendere un infarto Ogni 3 per 2 Rieccola eh No, muovi tutto così Guardate come si chiuda Non mi chiedete a fare il veneto Ragazzi c'è l'ho dietro Sono sicuro Mi vedete No Ragazzi ma dove devo andare? Questo è il numero di prima No No, 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 no Questo è il numero di prima Mi sto cagando in mano 20, 48, 63 Giusto Era sempre quello Guardagli alle spalle È messo a guardare le spalle No, no Questo mi vuole morto Regà è tutto chiuso Cosa devo fare? Regà però se deve venire qualcosa Che venga subito Così ci risparmiamo infarto su infarto Regà perché c'è una X disegnata qua sopra? No 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 Regà io ho spinto X Guardando quella X Si è aperta la porta E Sembra che tipo io ho sparato a quella Che è sta roba? No, no Regà Che c'è scritto qua? Mi sto cagando addosso Mi sto cagando addosso Andiamo avanti Tornano i pianti 23, 59 Quadro rotto Qua prima c'era disegnato qualcosa Non c'è disegnato più niente Porta aperta Qua la porta al bagno è chiusa totalmente Stavolta Oh Oddio santo Cos'è caduto? Cos'è caduto? Qualcuno Vero? Si E' vero Oddio 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 Avete visto quello che ho visto anch'io? No, no, no Che c'è scritto qua sopra? Qualcosa che non capisco Andiamo avanti Mamma mia Mamma mia Mamma mia Qua c'è un'altra scritta Ne cavo li leggo Oddio santo 23, 59 Oddio Oddio Che è? Cos'è? Perché è tutto rosso? Che cos'è? Oddio che schifo Ma c'è un cadavere dentro a quel frigorifero Se è un frigorifero No, che schifo Cioè io dovrei passare qua sotto Dove è riuscita la famiglia e il padre E' sempliciato Che schifo Che schifo Andiamo avanti Qua è rosso dall'inizio La porta è sempre aperta La c'è sempre il frigo che dondola Che schifo Mamma mia Cioè io penso Se c'è casca in testa quel frigo lì Però siamo riandati un'altra volta Rosso Regà non finisce più sto gioco Non finisce più Cos'è? Perché ho visto Mi sembra di vedere tipo appannato Ok Che devo fare? Siamo di nuovo bloccati Eh? No? Perché c'è scritto vello? Manca una L tra l'altro Sicuramente fa bene questa Oddio raga Oddio raga Andiamo Andiamo Tutto uguale No hanno aggiunto una L Regà Hanno aggiunto la L Come cazzo è possibile? Regà c'è Fa infartare sta roba Andiamo avanti Eh? Regà ci prende per il culo questo Per caso ci prende per il culo Oh cazzo Oh cazzo Si stanno aggiungendo delle lettere qua Sono quelli che hanno tolto da là Sono quelli che hanno tolto da là Sono È rimasto Oddio È rimasto Sono rimasto solamente la L e la O Cazzo Cosa mi significa sta cosa? Oh Avete sentito? Regà C'è Questo non ci vuole tanto a capire Significa vengo dall'inferno Una cosa del genere Poi Hai sentito la risata? Qua sto chiedendo una chiave Ma questa non si apre Andiamo avanti Andiamo avanti Mamma mia Oh cazzo Ok Oh No 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 Che vuol dire? Che vuol dire? Mezzanotte Mezzanotte Regà No 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 Non scherziamo Sono state le 23.59 Fino adesso Devo dire chiaramente Che sta per succedere qualcosa E tu C'è la luce rossa C'è la luce rossa Oddio Oddio Qua dobbiamo solamente andare avanti Qua dobbiamo solamente andare avanti Che c'è la musica? Andiamo avanti Oddio santo È da suicidio regà Oh Che voglio No 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 Avete visto quanto corre? Oddio No no Aspettate Aspettate C'è una Mi sono perso Oh ma finisce più sto corridoio Cos'è? Una presa per il culo Cos'è sta porta che non c'era? Regà Non ci sto capendo niente Oddio Io non mi sto più fermando Dove devo andare? Oddio C'è fa venire il mal di testa Regà È un horror della madonna Il bagno l'hanno modificato Oddio Si però Allora regà Fermiamoci un attimo Non può non avere fine Sto corridoio Cos'è quel pupazzetto per terra? Allora Cerchiamo Per quanto possibile Di andare con calma Guardiamoci i piedi Che so Sti rumori Oh Cos'è? Che cos'è? No regà Ma sono tutti così Oddio Ragazzi mi sento osservato No regà VIN No regà Ok Mar ребята Oh c'è un quadro per terra Quindi Perché è scappato acqua per forza C'è un bagno questo Oh C'è un bagno questo Cazzo è un film Horror Cos'è? Che vuol dire? Mi stai cacciando? Non andiamo più veloci come il primo Regà non andiamo più veloci come il primo Sta succedendo qualcosa Ok ma C'è una via d'uscita però Eccola Forse Dai dai Sembra Sì ok siamo tornati dove stavamo prima Non ha senso È senza senso tutto questo regà È veramente senza senso È scomparsa anche la scritta che stava qua sopra Poi sono tornate tutte le luci e tutto Sempre mezzanotte È chiusa quella Qua è tutto spento Regà c'è un modo per uscire Non mi va di passare altri 20 minuti qua dentro Cos'era? Qua sembra tutto tornato normale Vabbè normale è un parolone però Cos'è? Regà cioè Vedete presente quello che succede Ogni tanto Vedete? Cos'è regà? Cosa vuol dire? Che mi rappresenta? Fatemi uscire Che cosa vuol dire regà? Chiamerò più tardi In tutte le lingue del mondo Che è finito? Fa attenzione alla fessura della porta È una realtà separata È finito? Eh no perché non stiamo ricominciando da capo O sì? No perché non è da capo questo Sì Sì raga mi sa che è da capo Sembrerebbe Anche se Anche se sinceramente Un po' mi puzza Questa storia Cioè Mi pare molto strano Certo è chiaro Potrebbe anche essere Perché è una demo Però Non lo so Non credo sia finita qua ragazzi Le campane Le campane Ok ragazzi Non siamo alla fine No Non siamo alla fine Ok Credo di aver capito Cioè nel senso Ho capito che bisogna trovare delle foto Una cosa del genere Però dove le troviamo queste foto? È tornata alla mezzanotte E forse sono proprio le foto per completare questa Perché Io prima avevo fatto notare che l'avevo vista Prima aggiustata poi rotta Oh Ah Lady Ecco Vediamo Eh sì è una cosa del genere Perfetto Perfetto Sì Si sta completando Solo ragazzi È che Per chi non lo sa È una cosa impossibile Eh Se tanto guida tanto Ogni volta che troviamo cose del genere Dovremmo Andarci Perfetto Vediamo un po' Sì sì Come ne trovo Come ne trovo Ok Regà dov'è Non ne trovo più Mi manda a casa Tutte le parti Mi piacciono sul muro E' una cosa E' una cosa E' una cosa E' una cosa Perfetto 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 L'avevo vista E poi me l'ho data Adesso andiamo a vedere Quante ne mancano Una 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 Eccola là Eccola là Raga L'abbiamo L'abbiamo Completata Sono le 20 10 e 59 ma no raga diciamo che per il momento è tutto evidentemente non sono bastati anche se pensavo risuonano di nuovo le campane mezzanotte mezzanotte raga mezzanotte raga ok non ci si capisce nulla vabbè raga adesso chiudo per davvero basta e mettiamo in pausa perché sennò succede tutto allora dove lo posso il joystick qua e per il momento è tutto non sono bastate le due puntate quindi ci sarà la terza venerdì prossimo vi do appuntamento non mancate lasciate un like se questo video vi è piaciuto un commento iscrivetevi al canale nell'ultimo speriamo sia l'ultimo nel prossimo episodio vedrete sicuramente l'enigma finale mi informerò questa settimana cercherò di aiutarmi con qualcosa per il momento ripeto è tutto bella grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti